Sono loro, li riconosco. Così il giovane turista polacco aggredito sabato notte sulla spiaggia dei Rimini in zona Miramare ha detto agli inquirenti mentre gli venivano mostrate le foto dei sospetti. 2 su 4 è il contributo che è riuscito a dare alle indagini. La sua connazionale, stuprata sotto i suoi occhi, sconvolta durante un'aggressione al buio che le ha fatto anche quasi perdere i sensi, non se li ricorda. La giovane ha riportato una frattura del pavimento orbitale oltre alle lesioni dovute all'abuso sessuale. È stata violentata a turno per un'ora. L'identikit del branco si fa sempre più nitido. Fumavano marijuana e parlavano un italiano corretto, niente arabo. Non erano trasandati ma giovani tra i 20 e i 30 anni vestiti in modo curato. Sia lo studente che la donna peruviana, anch'essa stuprata quella stessa notte, hanno riconosciuto un leader nel gruppo, quello muscoloso che indossava una canotta bianca. Il modo di operare, la sicurezza nei gesti, il fatto che ci fosse un capo, fa pensare ad un gruppo organizzato. Nessun collegamento tra i fatti di Miramara del 26 agosto e il tentato stupro che si è consumato nella notte di giovedì dietro al delfinario di Rimini. Vittima, una turista quarantenne di Parma. Secondo la ricostruzione, un trentenne del Marocco, piuttosto ubriaco, aveva iniziato ad importunarla sul lungomare a tarda notte per spingerla poi in un luogo nascosto. L'allarme lanciato dagli amici della turista ha permesso ai carabinieri di intervenire prima che si consumasse la violenza. Intanto il danno d'immagine di Rimini dopo i fatti dell'ultima settimana è sotto gli occhi di tutti. Su Google imperversano articoli sugli stupri. Un dramma per l'onorevole Pizzolante secondo il quale se passa l'idea di una Rimini pericolosa, episodi come questi si verificheranno ancora.